Siamo con il professor Marco Sumini che esporrà la sua presentazione oggi pomeriggio. Di che cosa parlerà questo pomeriggio? L'idea è quella di presentare un po' la situazione degli usi pacifici dell'energia nucleare dopo Fukushima. Il problema da un certo punto di vista è molto comunicativo, nel senso che dopo Fukushima sembra che l'uso pacifici dell'energia nucleare, quindi l'uso per produrre energia, sia entrato in una sorta di zona grigia, nera, di cui la gente non vuole più sentire parlare. In realtà in questo momento ci sono 400 reattori nucleari nel mondo che stanno regolarmente producendo energia. È attrettanto vero che l'energia nucleare da un certo punto di vista si è sviluppata più rapidamente di quanto le condizioni economiche e industriali consentissero e quindi nei prossimi anni ci si deve attendere un riassestamento su un livello di diffusione di questa forma di energia probabilmente più basso di quanto inizialmente stimato. Tuttavia è una forma di produzione di energia a cui non possiamo assolutamente rinunciare perché rientra tutto sommato nelle energie carbon free, dobbiamo assolutamente ridurre l'uso dei combustibili fossili, però al tempo stesso dobbiamo assolutamente impegnarci perché sparisca dall'idea associata all'energia nucleare ogni rischio di weaponization, cioè di uso per scopi bellici dei prodotti, delle risultanze dell'utilizzo di questa forma di energia, anche perché noi in fondo dei combustibili nucleari utilizziamo soltanto poche per cento dell'energia che potrebbe essere ricavata. Il resto lo consideriamo rifiuto e dal punto di vista fisico e tecnologico questa è una piccola tragedia a cui dovremmo rimediare, essenzialmente dal punto di vista politico e poi dal punto di vista tecnologico ci sarebbero già le possibilità per progredire, però è necessario creare le condizioni opportune, condizioni opportune di sicurezza e di condivisione di obiettivi a livello internazionale che in questo momento effettivamente sono in costruzione. Grazie professore, buon lavoro per oggi.